Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo in compagnia del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Ovviamente con la dovuta distanza di sicurezza e con le nostre mascherine. Ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, nutrizionista e studioso di medicine naturali. Dunque dottor Torchio con lei oggi volevo parlare dell'immunità per il covid, cioè c'è stato purtroppo un po' di confusione perché nel momento in cui un individuo viene a contatto con un positivo non sa esattamente come fare per aumentare le proprie difese immunitarie. C'è stato proprio un po' un vuoto di informazioni, quindi volevo chiederle come si può fare per aumentare le proprie difese immunitarie come deve fare una persona che è in attesa del risultato del tampone, l'atteggiamento che deve avere, insomma cosa anche a livello di integratori può assumere. Esatto. C'è questo vuoto terapeutico proprio perché la persona che è entrata in contatto con dei positivi e magari non ha nessun sintomo, è in auto isolamento e sta aspettando diciamo di conoscere il risultato del tampone e non sa che cosa fare. Esatto. Noi possiamo in questa fase, visto che non vengono consigliati farmaci particolari che vengono poi utilizzati invece nella fase sintomatica allora in quel caso dobbiamo seguire i vari protocolli terapeutici che sono oramai ben conosciuti. Nella fase invece diciamo di vuoto terapeutico noi dobbiamo pensare che il sistema umanitario diventa efficiente ovviamente sulla base del nostro stile di vita e della nostra alimentazione. Ma di questo ne abbiamo parlato tante volte quindi potete trovare anche caricate sul sito di GRP o su YouTube tutte le nostre puntate dedicate alimentazione e sistema immunitario. Io però vi vorrei, ho preparato una scaletta in sette punti di che cosa fare quindi in maniera precisa per il sistema immunitario. Quindi dopo la cura dell'alimentazione e lo stile di vita noi dobbiamo assolutamente migliorare il quantitativo vitaminico del nostro corpo. Quindi non soltanto con l'alimentazione ma anche assumendo magari un polivitaminico che contenga tutte le vitamine e i minerali necessari perché abbiamo comunque molto spesso un'alimentazione inadeguata. Questo è il secondo passo. Il terzo passo è, e questo lo raccomando soprattutto alle persone dopo i 45-50 anni, un'ulteriore supplementazione di vitamina D che sarebbe già contenuta nel polivitaminico ma a una certa età non basta più e anche un'ulteriore supplementazione di vitamina C che comunque ha degli effetti positivi sul sistema immunitario. Quindi ai tempi della Spagnola non si avevano farmaci, davano un limone al giorno ai soldati e comunque si era visto che un limone al giorno che era il minimo dei minimi che si potesse fare allora ma comunque migliorava già la risposta al sistema immunitario così come anche il ben conosciuto olio di fegato di merluzzo che è ricco di vitamina D. Certo. Allora poi abbiamo dei prodotti erboristici specifici, alcuni di questi sono stati già studiati, vi parlo della latoferrina, e ve l'elenco, quercetina, artemisia e poi conosciutissimi astragalo, rosacanina, acerola, echinacea, nonché propoli e zinco. Tutti questi prodotti si trovano facilmente dal vostro farmacista o erborista di fiducia ma vi parlerei in questo caso della latoferrina che è l'ultimo ritrovato ma in realtà è una vecchissima conoscenza perché la latoferrina è contenuta nel colostro che è il primo latte materno, viene poi estratto dal colostro bovino ed è una sostanza che ha effetti antibatterici, antivirali e viene addirittura utilizzata già da decenni, spolverata su per esempio le parti di carne di macelleria per evitare le contaminazioni delle carni stesse. Quindi è una vecchissima conoscenza ma si è dimostrata utile a prevenire, l'abbiamo sempre usata assieme a tutte le altre erbe che io ho detto, per prevenire proprio le influenze, le infezioni diciamo invernali, i mali di stagione. Quindi la latoferrina può aiutare a rafforzare. Dobbiamo dire che tutti questi prodotti naturali, compresi i fermenti lattici che possono essere ad hoc scelti per stimolare il sistema immunitario che è concentrato nell'intestino e quindi abbiamo l'80% del sistema immunitario concentrato nel nostro intestino che se viene curato ci dà una migliore risposta e migliore difesa in confronto della malattia. Tutte queste cose che te le riassumo, alimentazione e stile di vita, un polivitaminico con i minerali, un supplemento di vitamina D, un supplemento di vitamina C e poi latoferrina, quercetina, artemisia, astraglo, rosacanina, acero, lachinacea, propoli, zinco, tutti i prodotti naturali che si trovano a volte già in cocktail, in farmacia o in erboristeria, fermenti lattici e poi lavaggi nasali. Lavaggi nasali, qui abbiamo dedicato un video proprio intitolato lavaggi nasali e gargarismi. Ogni volta che entriamo a casa dovremo fare un lavaggio approfondito del naso con acqua e sale e un gargarismo con un collutorio potente adatto per eventuale ridurre una carica virale che ovviamente si troverebbe in difficoltà con un collutorio, anche se un collutorio non ci può dare garanzia, ma è sicuramente un passo in più, quindi vi consiglio questi sette passi. Dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli, come ha già detto lei a casa, vi ricordiamo che se voleste rivedere una delle oramai tantissime puntate che abbiamo affrontato basta andare su YouTube e digitare appunto il titolo o il nome della patologia al quale siete interessati. Noi vi salutiamo. Buongiorno a tutti. E vi auguriamo un buon proseguimento di visione. Grazie a tutti.